dolorosa per i narcisisti, perché mina, mina la loro autostima, mina il loro senso di superiorità e quindi tu inizierai a contromanipolarli, inizierai a ottenere dei risultati da questo punto di vista, li costringe a confrontarsi con la realtà che è la realtà che non sono perfetti e che ci sono altre persone al mondo che sono più capaci, più belle e questo salutiamo Roxy Rose, questo gli dà una botta, dà una botta forte al narcisista che inizierà a provare rabbia, potrà arrabbiarsi, risentirsi, tenderà a negare, negare, salutiamo, ah sì Manuel l'abbiamo già visto, ah Manuel, salutiamo anche Manuel, tenderà in qualche modo a negare, tenderà in qualche modo a, diciamo, a destrutturarsi, il narcisista nega la sua imperfezione e quindi questo, il non sei perfetto, lo manda in tilt, inizialmente inizierà a dire come puoi dire che non sono perfetto, sono il migliore, sono il migliore in quello che faccio, non è vero che non sono perfetto, sono tutte frasi che il narcisista utilizzerà e tu te ne devi fottere, cioè anzi devi giocare, no ma guarda che c'è quello che è più bravo di te, c'è quell'altro che è meglio di te e piano piano inizierai a dirgli tutte cose che lui non accetterà di sentirsi ma tu lo tartasserai, salutiamo anche Pink, tu lo tartasserai e gli romperai i coglioni, tenderà a dire non è vero che sono perfetto, sono perfetto in tutto quello che faccio e tu giù a dargli, dire no guarda che hai sbagliato questo, hai sbagliato quell'altro e in tutti questi modi riuscirai a governarlo, riuscirai a controllarlo. Poi c'è la seconda frase che ti suggerisco di dire è non sei l'unico, il narcisista si crede di essere l'unico, si crede che tu gli dia l'esclusiva, invece in realtà tu gli devi dire guarda che io non ti do l'esclusiva, per me sei uno dei tanti, una delle tante, non ti darò mai e poi mai l'esclusiva, questo manda abbastanza in tilt il narcisista che invece vuole in tutti i campi diciamo non soltanto quello sentimentale affettivo ma i narcisisti spesso anche nel campo dell'amicizia anche nel campo di altre situazioni di altra natura e quindi il narcisista diciamo se tu gli dici non sei l'unico questo lo diciamo quando vengono confrontati quando vengono confrontati con la realtà, quando si confrontano con la realtà diciamo si sentono come dire desautorati del potere perché il narcisista crede di essere l'unico per te, non crede di avere l'esclusiva, crede di essere speciale e tu invece devi come dire negargli questa cosa. quando hai a che fare con un narcisista? Non esiste che tu vedi solo un narcisista, devi proprio dirgli guarda che io vedo anche altre persone, non sei l'unica persona che vedo, non mi interessa. La frase non sei l'unico o non sei l'unica è una frase che il narcisista percepisce in modo particolarmente doloroso perché questo mina la sua convinzione di essere unico, di essere speciale, li costringe diciamo a confrontarsi con la realtà che non sono unici, che tu vedi anche altre persone, che te ne fotti. Ma è importante dire questo perché certo gli genererà rabbia ma tu andrai ad acquisire molto potenziale sul narcisista perché è come dire è una come dire vai a minare la sua esigenza e quindi non capirà più niente perché con i narcisisti che sono fortemente iperlogici dobbiamo andare a destrutturare proprio la parte logica e dirgli guarda che non sei l'unico, beh è un qualcosa che destruttura. Quindi ti consiglio di dire, di usare questa frase. Un'altra...